Il bagagliaio della getta ha una capacità di 660 litri. Avete un'idea di quante uova può contenere? Il bagagliaio della getta ha una capacità di 660 litri. No, Grodino è fantasia, Grodino è simpatia, Grodino è allegria. E allora dai, 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 da un Grodino. Piace, piace, mi piacerà. Ma non ce n'è più? Ce ne facciamo un'altra? È così buona Focaccia Parmalat. E subito pronta, bastano pochi minuti di porno e... Focaccia ragazzi, scotta! Che buona, io col prosciutto. E io col formaggio. E oggi c'è una grande novità, la pizza Parmalat senza impastare, subito pronta. Focaccia e pizza Parmalat, due nuove idee. Pronto forno Parmalat. Ci prendiamo un Ag? Ah, tu sei uno di quelli che beve Ag? È fatto con le migliori miscele di caffè. Sì, ma se togli la caffeina... Aroma e gusto rimangono. Ag, la parte più buona del caffè. Ma quanti Agui sono perso nella vita? Quando non ce la fai più, metti la freccia e parti con Aviatour. Sul libro delle vacanze trovi 500 programmi di viaggio, ai prezzi e nei luoghi che sogni. Vacanze Aviatour. Metti la freccia anche tu. Deve essere buona la Simmental con le penne gialle. Cosa hai detto? Deve essere buona la Simmental... Pinse, ma ti avevo avvertito. Carne Simmental, con un gusto così unico. Non sbagli mai. Mare di freschezza, chiara e fresca sprite. Chiara come il cielo, guarda dai vedrai. Fresca per la tua sete, prova il gusto online. Così è sprite, chiara sprite, fresca sprite. Dai, toglie ancora il gusto e non lasciarlo mai. Per la tua sete c'è, che mi dà chiara fresca sprite. Detto la tua sete, chiara tipica, chiara tipica. Non so spie un, ne fu r Aristocchanna! e giocare usci e comprese.